buongiorno di nuovo benvenute benvenuti e diamo avvio a questo webinar e come è stato detto avete a disposizione la chat per questioni tecniche il bottone question and answer per fare delle domande sul contenuto il webinar avrà la durata di un'ora e in chiusura del webinar se ci sono alcune domande che verranno sottoposte dai partecipanti cercheremo di dare una risposta io adesso chiudo audio e video e do la parola per l'introduzione di questo webinar al dottor luigi zucchelli e poi parlerà il relatore dottor zucchelli prego buongiorno a tutti intanto benvenuti a questo primo di tre webinar dedicati alle tematiche di sanificazione e inseriti nel progetto rigenera al nome del cns vi ringrazio per la partecipazione molto numerosa e questo sicuramente conferma che siamo tutti consapevoli dell'importanza dell'igiene per limitare la diffusione del coronavirus abbiamo deciso di organizzare questi seminari perché ci sono arrivate molte richieste da parte dei nostri stakeholder quindi pubblica amministrazione clienti pubblici e privati e anche i soci e nel nostro piccolo stiamo cercando di dare un contributo affinché ognuno di noi possa agire con maggiore consapevolezza nell'ambito del proprio ruolo forse da oggi occorre un approccio nuovo dove la pulizia non deve essere considerata come un mero ripristino dello stato di decoro dei locali ma evidentemente le aree dovranno essere trattate secondo protocolli che garantiscano un abbattimento della carica microbica così come viene applicato normalmente all'interno degli ospedali e delle aree sanitarie non voglio togliere altro tempo ad un avere autorità in materia e passo la parola al dottor Gianfranco Finzi presidente nazionale AMO grazie dottor Duccelli adesso quindi passiamo la parola al dottor Finzi che farà la sua relazione se lascio un attimo il microfono acceso se ha diciamo qualche problema per condividere le slide così possiamo vederle insieme le lascio la parola dottor Finzi grazie. Buongiorno a tutti io sono il dottor Finzi sono il presidente nazionale dell'AMDO cercherò di spiegare brevemente alcuni concetti fondamentali di questa nuova malattia il mio punto non è il punto di vista dell'infettivologo ma bensì il punto di vista dell'igienista quindi parleremo in una prima parte di problemi epidemiologici e di problemi legati alla diffusione della malattia stessa e una seconda parte di alcune tematiche perché le tematiche sono moltissime non si possono esaurire certamente in un'ora di alcune tematiche legate a questa nuova malattia. Io ringrazio ancora il dottor Zucchelli per avermi invitato e questo è diciamo la mia prima esperienza online quindi se ci sarà qualche imperfezione chiedo scuse fin da ora. Parlerò un attimino della situazione attuale dal punto di vista epidemiologico dal punto di vista epidemiologico i dati a ieri sera come tutti sapete perché tutti i giorni alle ore 18 la protezione fa una conferenza dove da i dati erano 132.547 casi confermati il problema e qui si apre un problema della conta in realtà alcuni esperti dicono che bisogna moltiplicare per 3 per 5 addirittura qualcuno ha ipotizzato per 10 il reale fenomeno in Italia di questi e questi 132.547 casi ci sono 22.000 già guariti e circa 23.000 già guariti e dimessi. Sono ancora ricoverati quasi 30.000 persone e interampia intensiva 3.898. Purtroppo altissimo il numero dei deceduti 16.532. ecco io vi ho fatto solo vi voglio spiegare un attimino che cos'è l'AMDO. L'AMDO è l'associazione nazionale dei medici delle direzioni sanitarie è nata nel 1946 a Torino avanti alla prossima abbiamo circa 1100 iscritti e sono sparsi sia da dalla Sicilia fino all'Alto Adige avanti e di questi 1066 iscritti sono quasi tutti sono tutti medici di direzione sanitaria queste in breve le nostre finalità abbiamo una finalità sindacale ma soprattutto una finalità scientifica che si ispira alla nostra alla nostra specialità cioè la nostra specializzazione è igienico e igienistica e di sanità pubblica avanti e questi sono un attimo gli indirizzi se avete bisogno di materiale. Allora credo che io vi vorrei parlare di questi argomenti un'introduzione breve ma soprattutto della circolare del ministero della salute numero 54 43 del 22 febbraio che dà degli elementi fondamentali per la prevenzione del covid-19 quindi l'utilizzo dei dpi e come il covid impatta sugli standard di igiene ospedaliere e quali sono le buone pratiche di sanificazione. Vi ricordo che giovedì faremo proprio un seminario dedicato alle linee guida sulle buone pratiche di sanificazione. Allora innanzitutto vi ho riportato questo articolo di gennaio, era il 10 gennaio del 2020 quindi pochissimi mesi fa che si annunciava che c'erano dei casi sospetti di polmonite in Cina e la causa potrebbe essere un nuovo virus. Subito dopo passano solamente due mesi che abbiamo già la pandemia. Quindi la prima riflessione che bisogna fare su questa visione storica è che è una malattia a rapidissima diffusione. Io credo che sia importante parlare un attimino del covid innanzitutto una sezione. Covid è una nuova malattia e non si hanno ancora tutti i dati certi sulle modalità di diffusione e della gravità della malattia che provoca. La stampa ne parla, i media ne parlano, stanno tentando delle sperimentazioni di farmaci noti e stanno tentando delle sperimentazioni di farmaci sperimentali. Però ancora protocolli terapeutici ben definiti non ci sono. Per le modalità di diffusione se ne dicono molte, dopo vedremo che però alcuni concetti fondamentali sono già stati codificati. Avanti! Allora, innanzitutto parliamo di definizione. La malattia è una malattia da coronavirus e viene chiamata covid-19 perché l'addizione internazionale è coronavirus disease 19. L'agente ziologico invece è il virus SARS-CoV-2 e si chiama SARS-CoV-2 perché, io ho fatto la traduzione in italiano, è la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2. Noi nel 2009 avevamo già avuto un segnale, e qui bisognerebbe riscrivere tutta la storia perché fu fatto molto lavoro che poi in questo periodo non è stato considerato, avevamo già avuto un'epidemia non grave di SARS-CoV-1, cioè il primo virus che provocò la SARS. Le parole dell'epidemia. Io vi invito ad andare sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità perché leggendo il glossario ci rendiamo conto di che cosa dobbiamo considerare e di che cosa dobbiamo parlare. Le definizioni riguardano l'epidemia, il focolaio epidemico, l'etalità e mortalità, la pandemia, la quarantena, la sensibilità specifica e il soggetto asintomatico. Ma soprattutto bisogna soffermarsi sulla pandemia, cioè vuol dire che è una diffusione di un agente infettivo in tutto il mondo. L'OMS ha dichiarato nel marzo il Covid-19 pandemia. E l'altra è soggetto asintomatico. È importante dal punto di vista epidemiologico, e tutti ne parlano, perché oggi come oggi esistono molti soggetti che nonostante è affetto da Covid-19, non presenta nessun sintomo apparente, può trasmettere la malattia. L'epidemiologia. Io ho fatto la situazione al 5 aprile, però vi ho letto prima e un attimino la situazione al 6 aprile. La situazione, questa è la tabella che tutti i giorni l'Istituto Superiore di Sanità pubblica sul suo sito. Vedevate che avevamo al 5 aprile erano stati 120.290 casi, al 6 aprile abbiamo 132.547 casi. Le regioni in Italia più colpite sono, come ben noto, prima fra tutti la Lombardia, segue la Miglia Romagna, segue il Veneto. Avanti. Questa invece è la situazione europea. La situazione europea alcuni giorni fa, i dati si modificano giorno per giorno perché l'epidemia, diciamo, progressisce molto in fretta. Come vedete, dopo uno dei paesi più colpiti è la Spagna, segue la Germania e segue la Francia. Però si hanno modificazioni di questi dati di giorno in giorno. Le modalità di trasmissione sono molto importanti. La trasmissione del virus viene da soggetto infetto a soggetto sano tramite stretto contatto. Attraverso, quindi, le goccioline respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce, sternostisce o parla. Altro problema, le mani. Perché le mani, dopo lo vedremo, perché ho fatto alcune slide sul lavaggio delle mani, che è una delle misure precauzionali più importanti. Le mani, ad esempio, se contaminate, possono toccare la bocca, il naso e gli occhi. Ricordiamoci sempre che è stato dimostrato che la via oftalmica è una delle vie di trasmissione, che ancora per oggi viene poco considerata. Viene considerata dagli operatori sanitari, in quanto quando si trattano pazienti infetti, come vedete nelle foto che sono state, si mettono tutte le maschere con gli occhiali. Un'altra contaminazione che è stata segnalata e di cui se n'è poco parlata, perché rara, è la contaminazione fecale. Alcuni studi recenti, l'abbiamo visto, hanno indicato che il Covid-19 può essere trasmetto anche da persone che non mostrano sintomi, i portatori asintomatici. Questo è un grande problema che viene discuto da tutti gli addetti, perché gli portatori asintomatici sono quelli che più facilmente possono trasmettere il virus. Parliamo ora dei decreti. Allora, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo del 2020, che fu uno dei primi decreti, la legislazione in tema di Covid-19 è una legislazione ormai importante e numerosissima, tra atti del governo, atti delle regioni, atti del Ministero della Salute, ce n'è un mare, ci si perde. Ad ogni modo, diceva all'articolo 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Il personale sanitario si attene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, prevista dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e applica l'indicazione per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previsti dal Ministero della Salute. Dopo vedremo che il Ministero della Salute ha emanato proprio queste raccomandazioni. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di quelle legato 1, avanti, che adesso andiamo a vedere. La legato 1 premette, praticamente è riportato, come vedremo, poi il decalogo che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi lavarsi spesso le mani e quindi si raccomandava di tutti a disposizione in locali, pubblici, palestre, dappertutto, soluzioni idriacoliche per il lavaggio delle mani. Evitare il contatto ravvicinato con persone, evitare ambracci e così via. Come vedete, il punto L era pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcor. Il Ministero della Sanità ha mandato delle specifiche su tutta la problematica e principalmente ha focalizzato nelle pratiche igienistiche e innanzitutto il lavaggio delle mani. Tutto il problema della vestizione, dell'uso delle mascherine, e dopo vedremo, c'è un grande dibattito nel nostro paese con una presa di posizione dei sindicati medici molto forte e molto aggressiva sul problema dei DPI respiratori. Tra l'altra, in una parte, parlava di pulizia in ambienti sanitari dove dà delle specifiche in quanto dice che bisogna utilizzare disinfettanti di uso ospedalieri quali ipoclorito di sodio 0,1-0,5%, etanolo 62-71% e per ossido di idrogeno 0,5% per un tempo di contatto adeguati avanti. Dava anche le indicazioni come si dovevano vestire gli operatori delle pulizie anche, dicendo che dovevano vestirsi con protezione DPI e dopo vedremo un attimino quali DPI bisogna utilizzare. E infine, dava delle indicazioni anche per la pulizia di ambienti non sanitari. Con questo direi che nasce un'indicazione ben precisa, cioè la precisazione del Ministero della Salute è utilizzare protocolli adeguati, utilizzare protocolli mirati e naturalmente implementare e incrementare le operazioni di pulizia dell'ambiente. Tutto questo perché esiste, e se qualcuno, e io tramite il Consorzio Nazionale dei Servizi lo metterò a disposizione, esistono già pubblicati dei lavori su riviste internazionali che associano la presenza del virus sulle superfici e la sua persistenza e quindi la necessità di dover maggiormente pulire. Parliamo brevemente, si fa per dire, delle misure di prevenzione. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto anche in questo caso un decalico. Quali sono i dieci comportamenti da seguire, che è stato ripreso pari pari dal Ministero della Salute? I dieci comportamenti sono praticamente lavarsi le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni ispiratorie acute, ma questo è un... e certamente l'abbiamo recepito tutti. Non bisogna toccarsi il naso, bocca e occhi con le mani, bisogna coprirsi bocca e naso, e questa è una fase pre-obbligo da parte di alcune regioni di coprirsi il naso e la bocca con la mascherina. Naturalmente non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico, e poi pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol e infine, dal punto di vista così, in caso di dubbio non recassi, raccomandava di non andare al pronto soccorso, ma chiamare il medico di base, che si è visto purtroppo però che in certi casi ciò non è stato seguito. Il lavaggio delle mani è una delle pratiche che bisogna fare più spesso possibile perché lavandosi le mani si elimina il virus e quindi si elimina una delle fonti principali, perché con le mani naturalmente tocchiamo tutto, avanti. non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, avanti. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. Questi sono anche per l'Istituto Superiore di Sanità i due principali disinfettanti utilizzabili. quindi cloro e etanolo. Sull'acido peracetico ne parleremo dopo perché esistono numerosi lavori che indicano la sua funzione antivirale, però bisogna vedere come lo vogliamo utilizzare. C'è proprio un manifesto che è il decalogo, i dieci comportamenti, e se voi andate a leggere i siti e la letteratura internazionale, avanti col prossimo, vedete che più o meno anche tutti gli altri enti che si occupano a livello mondiale di infezioni, questo è il manifesto del CDC di Atlantia, se vedete, sono sempre gli stessi concetti. quindi è universalmente asserito che queste sono le regole che servono per combattere e per prevenire il Covid-19. Avanti. Ecco, io parlerò due minuti dell'igiene delle mani, avanti, perché è molto importante l'igiene delle mani. Queste sono le cinque fasi della trasmissione del virus attraverso le mani. La fase 1 è la presenza del virus sull'acute dei soggetti infetti o sulle superfici dell'ambiente e nelle immediate vicinanze. C'è il trasferimento del virus sulle mani, il virus sopravvive sulle mani per alcuni minuti, dopodiché una inadeguata o omessa pulizia delle mani causa la contaminazione delle mani stesse, quindi le mani contaminate trasmettono il virus. Ricordatevi che una delle vie è anche la via oftalmica, quindi toccarsi meno spesso possibile gli occhi, perché potrebbe essere una via di ingresso dei virus. L'igiene delle mani si può fare con il lavado delle mani con acqua e sapone o con la frizione delle mani con una soluzione su base alcolica. Avanti. Ecco, qui sono tecnicamente, scusate se sono molto didattico, il lavado deve durare almeno 40-60 secondi e bisogna trasferirare le mani fortemente per 10-15 secondi avanti, mentre la frizione con prodotto su base alcolica deve essere eseguita per 20-30 secondi. Un'altra indicazione è l'uso dei guanti per assicurare una barriera protettiva e per prevenire la contaminazione delle mani e per ridurre la probabilità che le mani di persone contaminate possano fungere da mezzo di trasmissione tra due soggetti. Avanti. Il bisogno però ricordarsi che l'uso dei guanti non sostituisce assolutamente il lavaggio delle mani e che i guanti possono presentare piccoli difetti invisibili o possono laccedarsi durante l'uso e le mani possono contaminarsi a loro volta quando si rimuovono i guanti. Quindi bisogna associare da una parte l'uso dei guanti, dall'altra il lavaggio delle mani. Passiamo ai DP. Io, come avete visto, se avete letto la stampa, c'è una grande discussione sull'uso dei DP. I DP, adesso vedremo che cosa sono, perché non dobbiamo, dal punto di vista legislativo, sono ben codificati. Le mascherine chirurgiche non sono DP. Questo deve essere assolutamente noto a tutti. C'è un documento dell'Istituto Superiore di Sanità in Progress sull'uso dei DP che ha scatenato però molte polemiche, specie da parte dei sindacati medici. Il problema nel nostro paese è che scarseggiano sia le mascherine chirurgiche che i DP. Ad ogni modo, al di là di ciò che i media ci riferiscono e delle polemiche su questi dispositivi. I DP definizione sono attrezzature destinate ad essere indossate tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti in attività lavorativa e suscettibili di diminuziarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. L'articolo 76 del Decreto Legislativo numero 81 del 2008 che è il testo base per la sicurezza dei lavoratori indica le caratteristiche che devono avere i DP per poter essere utilizzati adeguate ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo rispondenti alle esigenze ergonomiche di salute adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità compatibili fra loro in caso di rischi multipli conformi al Decreto Legislativo 475 del 92 cioè successive modificazioni la marcatura CE i disposizioni di protezione delle vie respiratorie come vedete io vi ho messo tutti i tipi ci sono i faccialti i frittanti la semimaschera respiratoria filtrante la maschera pienofacciale e l'autorespiratore noi nel caso del coronavirus dobbiamo parlare di facciali filtranti i faccialti filtranti io mi rifaccio alla legislazione e non alla situazione attuale il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ha suggerito in tempi non sospetti una protezione delle vie respiratorie per i virus ottenuta per mezzo di facciali filtranti ho detto in tempi non sospetti perché nella polemica che si è aperta alcuni dicono che alcune indicazioni sono state adattate alla carenza di materiale una protezione delle vie respiratorie degli operatori sanitario efficace ottenuta per mezzo di facciali filtranti FFP2 l'FFP3 invece per il personale di assistenza diretta cioè se una persona va direttamente a curare un malatto di covid-19 FFP2 per tutti gli altri operatori sanitari la mascherina chirurgica non è un DPI ma serve per i pazienti cioè serve perché gli sternuti le goccioline di flughe emesse da un soggetto infetto non contaminano le altre persone alcuni possibili due può un facciali filtrante proteggere dal virus SARS-CoV-2 i facciali filtranti sono progettati per ridurre l'esposizione dell'indossatore ai rischi di agenti dispersi nell'area quindi sì la differenza fra un facciale filtrante e una mascherina chirurgica i facciali filtranti sono progettati per contribuire e ridurre l'esposizione delle utilizzazioni alle pratiche sospese nell'area alle particelle sospese nell'area mentre lo scopo primario di una mascherina chirurgica è come ho detto prima contribuire ed impedire che le particelle biologiche spulso dall'instituzione finiscono nell'ambiente le mascherine chirurgiche non sono necessariamente progettate per fare una perfetta tenuta sul volto e quindi il passaggio di aria intorno ai bordi è probabile e come ottenere la massima efficacia e quindi tenuta di un facciale filtrante allora se il facciale filtrante non fa tenuta correttamente sul volto possono passare i virus e quindi possono essere la persona possono essere infettate è molto importante sempre seguire le istruzioni di indossamento e fare un attento controllo sulla tenuta del facciale prima di entrare nell'ambiente a rischio una buona protezione di una buona tenuta sul volto può essere ottenuta soltanto se il viso è ben rasato nella zona dove il facciale è a contatto con la pelle del volto le barbe i baffi lunghi e le basetti possono intervenire con una buona tenuta e causare le perdite dell'efficienza del facciale filtrante sono delle piccoli accorgimenti che però bisogna sempre tenere presente parlo ora della pulizia in ambienti sanitari nella letteratura questo ho riportato praticamente quello che viene indicato dal ministero dell'istituto superiore di sanità pare che questi virus in condizioni ottimali di umidità e temperatura possano resistere sulle superfici fino a nove giorni naturalmente dipende da tante cose dipende dall'umidità dipende dal tipo di superfici dipende dalla temperatura e così via per nostra fortuna il virus ha bisogno di un substrato per poter sopravvivere e quindi è molto importante avere adeguate procedure di sanificazione utilizzando i comuni disinfettanti quali quale ipoclorito di sodio l'etanolo il perossido di idrogeno per un tempo di contatto adeguato noi nella prossima lezione vi daremo proprio dal punto di vista pratico le tabelle le tabelle le concentrazioni e quindi non esistono abbiamo indicato e hanno indicato questi disinfettanti perché oggi come oggi non esistono ricerche evidenze scientifiche che possano far supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una sopravvivenza all'azione dei disinfettanti sopra menzionati da parte del virus SARS-2 uno del problema è che noi d'ora in poi dobbiamo metterci in testa che bisognerà fare delle procedure ben precisi efficaci e bisogna in tutti i casi avere il tempo di sanificare bene le superfici specie nei reparti che ospitano il paziente covid-19 negli ambienzi non sanitari praticamente si possono utilizzare sempre l'ipoclorito di sodio allo 0,1% o l'otianolo al 70% dopo l'alcol dopo una pulizia con detergente neutro la cosa che in queste curiosa perché in un certo senso è contrastante con alcune indicazioni che sono state date dice tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DP filtrante respiratorio FFP2 o FP3 protezione facciale guanti monouso camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimuzione in sicurezza dei PI dopo aver fatto le pulizie quindi devono essere addestrati e questo è molto importante sia per la vestizione ma soprattutto per la vestizione dopo aver fatto le pulizie dopo l'uso dopo l'uso dopo l'uso DP monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto quindi il concetto della pulizia è stato ampliato è stato ribadito quali sono i disinfettanti specialmente due che possono con sicurezza uccidere il virus ma soprattutto è stato ribadito che deve essere assicurata la sicurezza del personale io ho più o meno anche se un pochettino in anticipo finito l'esposizione adesso io farei incominciare la discussione perché ho visto che è un po' complicata sì ci sono ci sono arrivate delle domande quindi le leggo io adesso in diretta comunque può vederle nel bottone che c'è scritto Q&I senti che lo clicco bene quindi la prima la leggo in diretta beneficio di tutti buongiorno a proposito di procedura di pulizia degli ambienti pubblici per chi gestisse la manutenzione degli impianti di condizionamento è necessario procedere alla pulizia dei canali dell'aria prima del rientro dell'utenza negli ambienti se sì quali prodotti utilizzare con che modalità grazie allora il il problema la risposta a parer mio io non sono un esperto di impianti di condizionamento perché voi sapete che ha tutta una problematica particolare certamente e la risposta è sì è necessario procedere alla pulizia è necessario i prodotti se si possono se si usano sia i detergenti comuni indicati dal ministero della salute e i disinfettanti indicati dal ministero della salute gli istituti superiori di sanità l'accorgimento è quello anche in questo caso di fare vestire il personale con gli adeguati mezzi di protezione spero che è così ok grazie vado con la domanda successiva che probabilità vi è che si diffonde il virus attraverso gli impianti di trattamento dell'aria condizionata allora non vi sono evidenze scientifiche in questo momento che dimostrino che c'è una attraverso l'aria condizionata vi possono essere degli diciamo della diffusione del virus io ho letto molto nessuno parla di questa probabilità non ne parla l'SDC non ne parla l'SDC di Atlanta non ne parla l'istituto superiore di sanità non ne parla nessuno un'altra considerazione che va fatta se voi avete visto se voi avete visto nelle slide non esiste la possibilità che il virus rimanga sospeso nell'aria e quindi abbiamo una contaminazione quindi una possibilità di diventare infetti perché il virus è disperso nell'aria perché si dice sempre da tutto quello che naturalmente si è visto fino ad oggi perché come ho detto nelle prime diapositivo è in fieri stiamo scoprendo delle cose che fino a poche settimane fa non sapevamo neanche il problema dei portatori sani a un certo punto non era stato preso in considerazione questa è una premessa che va fatta per adesso anche come ha detto recentemente il professor il presidente dell'istituto superiore di sanità non esistono evidenze scientifiche che dimostrino una trasmissione tramite l'aria del virus quindi non dovrebbe esserci però ripeto poiché tutto in fieri non si può ormai non diciamo escludere niente però non esistono evidenze scientifiche e prove vere che ci sia una trasmissione tramite l'aria ok vado alla prossima sono efficaci le sanificazioni mediante spruzzi di prodotto come linal signora Azza che mi pare Paganelli Azza io posso rispondere solamente se mi manda la scheda tecnica del prodotto sterinal perché io non conosco il prodotto sterinal ok vado con la prossima buongiorno cosa si intende per certificazione della sanificazione grazie allora a parte che invito la signora De Santis a partecipare alla lezione chiamiamola così al seminario webinar di giovedì prossimo perché lì parleremo di linee guida di certificazione di di tutto questo problema dal punto di vista puramente didattico la certificazione della sanificazione implica che un ente terzo certifichi che la sanificazione avviene tramite metodologie indicate in determinati standard le faccio un esempio l'AMDO con altre associazioni scientifiche potete trovare il materiale sul sito dell'AMDO stesso www.amdo.org ha fatto delle linee guida e se esiste qualcuno che ha fatto delle procedure di certificazione prendendo le nostre linee guida e verificando che quei processi siano stati fatti secondo quanto indicato nelle linee guida si può arrivare a una certificazione del processo io le invito però perché ne parleremo proprio per un'ora a giovedì mi pare vedo il dottor Zucchelli alle 10 alle 10 confermo ok allora la prossima aziende che fanno sanificazione propongono trattamento con ozono che non è previsto nella circolare il 22 febbraio 2020 che efficacia può avere? noi non dobbiamo parlare di certificazione di circolare del 22 febbraio qui signori si tratta di andare a vedere le evidenze scientifiche pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità dall'ECDC di Atlanta dall'ECDC di Stoccolma l'ECDC è l'European Center for Disease Control europeo e dal CDC di Atlanta lo zono non è previsto quindi se non è previsto non ci sono delle certezze non si può usarte perché a un certo punto è una pratica non raccomandata e non certificata da nessuno poi naturalmente sappiamo benissimo che ne arrivano più richieste ti propongono tutto in questo momento però io credo che sia una pratica auspicabile è da seguire seguire le indicazioni ripeto del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità del CDC di Atlanta perché è uno dei maggiori centri al mondo di controllo delle malattie infettive e delle CDC europee ok allora prossima domanda può chiarire la differenza tra sanificazione e disinfezione e con che frequenza vanno fatte in uffici pubblici non sanitari allora la differenza la disinfezione è un processo per questo lo studiamo dai primi anni che facciamo igiene è un processo che distrugge in gran parte i micro i microorganismi patogeni mentre la sanificazione è un processo che diminuisce in linea generale tutta la carica microbica ambientale quindi dov'è il praticamente la la differenza che mentre da una parte si fa una procedura che ha come obiettivo quello di uccidere le specie patogeni e quindi possono sopravvivere altri microorganismi che non sono patogeni ambientali nell'altro invece tutta la carica microbica ambientale si diminuisce va bene vediamo la prossima allora buongiorno la sanificazione dei locali con ozono sistemi ad ultravioletti efficace? grazie sistemi ad ultravioletti assolutamente no perché dovrebbe essere talmente vicino l'ultraviolette che cioè non esiste un sistema ultravioletto che può sanificare un locale anche perché tecnicamente io non l'ho mai visto e poi tutto può essere nella vita con ozono ripeto quello che finché non ci sono indicazioni dalle più alte autorità mondiali anche l'OMS non ha mai indicato l'ozono quindi io invito tutti a rapportarsi ma se poi il dottor Zucchelli vuole potremmo fare anche una specie di webinar di una mezz'oretta indicando quali sono le principali fonti che e come si fa a ricercare il materiale le principali fonti vi ripeto non hanno mai indicato l'ozono ok grazie ce ne sono tante di domande allora in una casa di riposo dove allo Stato non sono registi signor Mancini subito nella casa di risposto il personale FFP2 non ci piove è inutile tergiversare per quanto riguardi le persone gli ospiti mascherine chirurgiche ok buongiorno per il personale che fa assistenza domiciliare che DPI devono usare oltre i guanti e mascherine FFP2 a suo viso è corretto consegnare calzari monouso la ringrazio allora è corretto consegnare calzari monouso c'è tipo e tipo di calzare anche qui si apre una discussione che non finisce più perché esistono i sovrascalpe monouso poi esistono quelli che sarebbe più corretto utilizzare che sono diciamo delle calze un po' più lunghe ok come ah questo penso sia una domanda relativa prima al prodotto come allego la scheda tecnica del prodotto penso quello che l'indirizzo email dell'associazione lei me lo manda e io gli do una risposta per iscritto per email l'email se ha da prendere appunti è ammdo segreteria chiocciolagmail.com me la ripete che la sto scrivendo qui in chat così si vede ammdo.segreteria chiocciolagmail.com ecco fatto perfetto o poi per una sterilizzazione globale di una casa di riposo oltre alla significazione fatta dalla ditta addetta alle pulizie quale metodo si può adottare? allora le case di riposo come gli ospedali non si possono sterilizzare gli ambienti non si sterilizzano non c'è una metodologia per la sterilizzazione ci sono delle metodologie per l'alta disinfezione io credo che un protocollo adatto di pulizia può risolvere il problema ok protocollo 14 marzo due punti la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi sintomi sospetti del contagio sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio non solo negli ambienti ospedalieri proseguendo la vigilanza non mettiamo a repentaglio la sicurezza del medico medico competente DLGS 81 08 un commento sul fatto che non avendo strumenti certi potrebbe essere maggiore lo svantaggio che il beneficio grazie allora sto rileggendo la domanda perché la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi i sintomi sospetti del contagio sia per l'informazione del lavoratore non solo negli ambienti ospedalieri proseguendo la sorveglianza non mettiamo a repentaglio la sicurezza del medico competente un commento sul fatto che non avendo strumenti certi potrebbe essere maggiore lo svantaggio che il beneficio non ho capito bene la domanda perché mi pare più un commento che una domanda ok allora magari chiediamo a Fulvio Proietti se cortesemente può riformulare eventualmente la domanda vediamo la seconda domanda è consigliato sanitizzare gli ambienti lavorativi mediante aerosolizzazione di un distributore a base di acido paracetico allora premetto una cosa io nel 2012 no sì credo nel 2012 pubblicai un lavoro sul proprio sulla aerosolizzazione di disinfettanti a base di acido paracetico credo però che in questa situazione con le indicazioni che ci hanno date l'aerosolizzazione in questo momento di acido paracetico non sia fondamentale bisognerebbe un attimino capire meglio anche perché come ha detto Brusaferro non sopravvive nell'aria quindi non serve disinfettare l'aria il vero problema è disinfettare le superfici quindi l'aerosolizzazione in questo caso secondo me ai dati che abbiamo non è necessario va bene poi il rapporto ISS Covid-19 numero 2020 indica per gli operatori della sanificazione ambientale l'uso della mascherina chirurgica nelle stanze di decenza allora io rispondo non do il mio parere perché il mio parere potrebbe essere personale quindi non è che si possa rispondere c'è una disinfettiva non c'è un allineamento tra questo rapporto e quello che dice le specifiche del Ministero della Salute perché se andate a leggere il Ministero della Salute raccomanda l'uso di DPI la legge raccomanda l'uso di DPI questo rapporto raccomanda l'uso delle mascherine chirurgiche tra parentesi io ho fatto presente questo e mi è stato risposto che è un rapporto in divenire cioè non è il rapporto definitivo quindi può essere anche che sia stato suggerito anche tenendo conto della mancanza di materiale io stando dalla parte così di quello raccomandato anche in tempi pre-epidemia e andandomi a rileggere perché in questo paese tutti si sono dimenticati una cosa che quando avevamo l'alarme SARS-1 tutti ci fu un piano pandemico nazionale c'è stato un piano pandemico regionale c'è un piano pandemico comunale c'è un piano pandemico per ogni ospedale nei piani pandemici di dieci anni fa era sempre indicato l'uso delle mascherine FFP2 quindi la mia opinione è che quello che vi ho fatto vedere è ciò che è stato indicato dal Ministero del Lavoro dall'81 e dal e quindi esiste anche un rapporto di un gruppo di medici del lavoro che se volete io posso mettere a disposizione poi mi diranno su quale sito posso mettere a disposizione un rapporto che dice che bisogna utilizzare gli FFP2 a questo punto io credo che è aperto il dibattito il dibattito è un sarebbe opportuno prendere delle misure maggiore di sicurezza e poi fare il dibattito alla rovescio perché come vi ho spiegato la mascherina chirurgica non è un DP quindi se dobbiamo fare indossare i lavoratori di DPI dobbiamo fare indossare l'FFFP2 ok allora il benicone cloruro 10 grammi non uccide il virus quindi la risposta almeno a quello che dicono le maggiori autorità scientifiche mondiali e poi c'è questa domanda possiamo fare chiaramente su questa apparente contraddizione era penso riferito alla domanda fatta prima perché l'utente era lo stesso allora la contraddizione sta nel fatto che le indicazioni in itinere ripeto in itinere perché non sono indicazioni definitive dell'istituto superiore di sanità e la mascherina chirurgica che non è un DP l'INAIL nel rapporto dei medici del lavoro del lavoro della regione veneto indica come dpi l'FFP2 e il ministero a un certo punto ve l'ho fatto vedere indica l'FFP2 ma soprattutto l'81 dice adeguati mezzi a questo punto esiste chi può risolvere il problema e dare le indicazioni il medico del lavoro perché anche là dove abbiamo ricoverati i covid-19 dovremmo fare la mappa dei rischi e quindi il medico del lavoro dovrebbe con il responsabile della sicurezza visti i rischi dovrebbe indicare quali sono i dpi che ognuno deve utilizzare tant'è vero che io non me lo ricordo bene però perché è molto lungo il dossier dell'Istituto Superiore di Sanità a un certo punto parla di questa problematica e rimanda nelle specifiche situazioni alle specifiche indicazioni ok allora sono quasi le 11 abbiamo circa una decina di domande qui e qualcuna in chat che poi vado a recuperare quindi finisco queste che sono nella QEA e poi vado a vedere quelle nella chat puntata dedicata alle domande intanto le registo ok allora nella casa di riposo devono avere per forza un filtro perché c'è il filtro adesso io tecnicamente non so come sono fatte tutte quelle che noi utilizziamo comunemente in ospedale sono quelle che hanno un filtro quella la famosa valvola che lei chiama valvola devono avere il filtro ok non essendo in condizioni di significare con cadenza quotidiana tutte le superfici presenti in una struttura a quale è meglio dare priorità esempio quelle metalliche piuttosto che plastiche linee quelle toccate da molti da maniglie e porte piuttosto che altre l'asciugatura è importante allora non si può qui c'è un errore di fondo si deve sanificare tutti i giorni si spendono più soldi per la sanificazione si fanno dei protocolli di interventi quotidiani non c'è scelta perché siamo in una situazione eccezionale dobbiamo adottare misure igieniche eccezionali gli operatori che svolgono attività di pulizia presso casi di riposo ospedale che tipo di mascherina devono indossare sia nel caso di accertati o meno nel caso di accertati devono indossare la FFP2 nei casi in cui non ci siano pazienti infetti ma siano un reparto di chirurgia piuttosto che un reparto di medicina normale interna l'uso della mascherina chirurgica indicata perché è una prevenzione poiché si fa verso il ricoverato ok buongiorno per pulizia di ambienti tipo uffici eccetera pubblici quali possono essere le frequenze di eventuali attività di disinfezione giornaliere con prodotti di tipo ospedaliero per quelle da attuare con vaporizzazione dei prodotti eccetera grazie allora tutto questo ne parliamo giovedì questa era l'introduzione quindi non è che mi posso continuare certo quindi giovedì venite e vi diamo tutte queste informazioni ok prossido di idrogeno usato in nebulizzazione efficace come operazione di sanificazione ho già risposto alla prima ok il protocollo della presidenza del consiglio dei ministri prevede la prosecuzione e la sorveglianza sanitaria delle visite mediche e lavoratori previste dal decreto sulla sicurezza del lavoro potrebbe essere un rischio per il medico lei ritiene che siano maggiori i benefici per il lavoratorio i rischi per i medici perché io sono un medico il medico deve fare il medico deve utilizzare i dpi e però deve fare i protocolli che la legge prescrive e che le norme di sicurezza prescrivere quindi non è che possiamo metterci a dire non facciamo questo perché il medico è il medico deve fare quello che viene detto ok quindi gli ambienti vanno sanificati pulendo direttamente le superfici non ricorrendo a reassolizzazione degli ambienti vanno sanificati pulendo scusate la terminologia un po' studentesca bisogna usare olio di gomito detergenti e disinfettanti sono i tre ingredienti che servono ok il facciale filtrante FFP2 per quanto tempo efficace un turno di lavoro di 6 ore o per più turni allora bisogna vederle ne esistono tante tipologie mediamente per un turno di lavoro perché va dalle 4 alle 6 ore come efficacia di filtrazione poi può darsi che ne abbiano fatti anche nella gamma che propongono io non so se voi siete andati a me a vedere oggi come oggi propongono di tutti ok poi abbiamo una domanda dice quali sono le procedure per le scuole nelle scuole pubblici a parte che adesso le scuole sono tutte chiuse quindi non abbiamo il problema però sono quelle indicate per gli ambienti pubblici per gli uffici postali piuttosto però oggi come oggi non abbiamo procedure perché non sono tutte chiuse quindi ok poi c'è una che probabilmente si riferisce a qualcosa di precedente non parliamo del filtro ma della valvola di espirazione probabilmente si riferisce a una domanda precedente quindi ok l'anonymus attende per ossido di idrogeno dice per ossido di idrogeno non voglio fare una polemica però io già ampiamente mentre sull'ozono gli ho detto assolutamente che non c'erano evidenze scientifiche ho detto che per quanto riguarda pur avendo scritto un lavoro che potete trovare sulla mia pubblicazione sulla rivista l'ospedale online ritengo che oggi come oggi non essendoci prove scientifiche e avendo dichiarato il presidente dell'istituto superiore di sanità che non sopravvive di per se stesso nell'area il virus ma non esiste nessuna prova scientifica che nell'area il virus può sopravvivere allo stato dei fatti dobbiamo riportarci alla prima diapositiva e non ritengo che sia una pratica che può sostituire le altre le altre operazioni né aggiungere qualcosa alle altre operazioni leggo intanto le domande che sono in chat perché ce n'era qualcuna che forse mi è sfuggita quindi le rileggo il lavaggio di superficie con l'isoformo può essere adeguato? anche qui bisogna che guardi la scheda tecnica scusate perché i prodotti commerciali sono stani va bene adesso io sto leggendo quelle che sono sulla chat che non sono state nella question answer quindi lei non le vede qual è il documento di riferimento che prescrive per le operazioni di pulizia l'uso di DPFFP3 ultima diapositiva le pulizie allora nella circolare del ministero della salute quella che abbiamo visto prima e a questo punto propongo anche a Zucchelli che bisogna fare un sito dove mettere tutto il materiale le leggi eccetera perché nella famosa circolare che ma iutile la 5 54 43 del 22 febbraio quella del ministero della salute sono indicate ve lo riportate nelle slides quali sono i DP che per le pulizie devono essere utilizzati ok poi sempre nella chat in una casa di riposo dove sono registrati i casi di covid è opportuno per indossare DP al personale e mascherine chirurgiche agli ospiti certo certamente forse questa avevamo risposto bisogna mettere gli FFP3 in caso di manovre sul paziente che possono produrre aerosolizzazione ok poi c'era quella sulle scuole a cui ha risposto dicendo che appunto sono le procedure per gli enti pubblici il personale che in questo periodo lavora nelle scuole per la situazione eccezionale mascherine eccetera allora non devi intorsare nessun DP basta la mascherina perché la probabilità di contatti credo che la probabilità di incontrare persone eccetera sia esibile ok leggo ancora qualcuno che qui nella chat noi collaboratori scolastici abbiamo sanificato la scuola con cloro e candeggina va bene? quindi qui si dice noi collaboratori scolastici abbiamo sanificato la scuola con cloro e candeggina va bene? sì ok perfetto quindi sulla chat l'abbiamo finita ne abbiamo ancora due quali sono le procedure per i musei? le procedure per i musei a parte che bisogna capire anche se sono pavimenti bagni eccetera basta utilizzare cloro cloro derivati e alcol o alcol derivati ok ultima domanda le FFP2 FFP3 con valvola sono da evitare se non in reparti tutti pieni di malati covid-19? allora le FFP2 e le FFP3 sono indicati negli ospedali nei reparti con covid-19 nei reparti normali potete mettervi la mascherina chirurgica teniamo presente che molte volte nei reparti normali abbiamo anche dei portatori sani e questo è tutto il problema specie che si è aperto con le richieste da parte dei sindacati degli infermieri dei medici di fare uno screening per tutti i lavoratori e tutti i sanitari che lavorano in ospedale ok siamo riusciti in questa maratona a rispondere a tutte le domande grazie dottore abbiamo sforato di dieci minuti ma il tema era molto caldo importante evidentemente anche visto il numero dei partecipanti chiedo al dottor Zucchelli se vuole fare un saluto io ringrazio intanto il dottor Zinzi perché è stato preciso e ci ha dato tante indicazioni utili vi invito al prossimo webinar del 9 aprile che col quale entreremo un po' più nel dettaglio sulle procedure sui protocolli di sanificazione anche sui controlli e le tematiche legate alle certificazioni dei servizi quindi ringrazio tutti anche per la partecipazione e vi saluto e vi do appuntamento alle ore 10 del 9 aprile per il prossimo webinar grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti e al prossimo webinar arrivederci grazie a tutti